buongiorno ragazzi oggi come mia terza apertura vi porto la ultra collazione di charis ultra premium e adesso provvede all'apertura una scatola e c'è il tappetino cassettino nel primo cassettino le tre carte promo la prima la seconda e la terza e in più il codice poi ci sono i vari e bustine e i due sacchettini con inserti in metallo nel secondo ci sono c'è un'altra moneta di charizard è sempre in metallo e 36 e 8 pacchetti e nell'altro ci sono 36 altre 8 totale 16 pacchetti non c'è altro vediamo l'apertura dei seguenti pacchetti primo pacchetto niente è il codice in real secondo pacchetto anche questo niente è il codice togekiss polo e il codice reggis raro shiming e codice inferno e polo e il codice clefabe e il codice non è molto fortunato forse mi conserva qualcosa nel finale swampert oro per lo sound andiamo avanti gole e un glassium v max almeno una carta e almeno una carta per adesso abbiamo trovato e il codice e il codice e il codice e il codice e come ultimo pacchetto di oggi e come ultimo pacchetto di oggi e il codice come box non è stato molto fortunato però a me non ci arrivano le tre carte di charizard e quello che viene ripetiamo ripetiamo la carta tre carte di charizard e la carta che ho trovato di glassium v max per oggi è tutto grazie e alla prossima ripetiamo